Volete ottenere il massimo dalla vostra connessione internet? Vi spiego come fare tra poco qui su TechPrincess. Questo Fritzbox 7590 è prodotto dall'azienda tedesca AVM ed è un modem router. Prima di dirvi qual è il suo compito facciamo però un passo indietro. Il modem è un apparato di rete che trasmette e riceve informazioni sfruttando la linea telefonica, mentre il router è quello che permette di condividere questa connessione con più dispositivi. Insieme vi consentono di navigare in internet, di guardare i film e serie tv in streaming e di consultare i social con lo smartphone. Il modello 7590 è l'ultimo arrivato della famiglia Fritzbox e porta con sé un look tutto nuovo, moderno e adatto ad ogni ambiente. Il restyling però non è l'unico punto di forza di questo modem router. Fritzbox 7590 è un concentrato di tecnologia ed è sviluppato per sfruttare al meglio la vostra connessione di rete. Due sono i modi in cui potete utilizzarlo, sostituendolo a quello già in vostro possesso oppure usandolo unicamente come router. Cosa vuol dire? Che potete collegarlo al vostro modem e lasciare che sia lui a gestire la connessione wifi. Configurarlo è facilissimo, una volta collegato vi basterà connettervi all'indirizzo internet dedicato e seguire le semplicissime istruzioni che vi guideranno fino alla completa configurazione della rete di casa oppure del vostro ufficio. Visitando lo stesso indirizzo oppure scaricando My Fritz app 2 sul vostro smartphone potete controllare chi è collegato alla rete e accedere a decine di impostazioni. Tra le funzionalità più interessanti troviamo la possibilità di connettere alle porte USB del vostro Fritzbox una chiave USB o addirittura un intero hard disk. A cosa serve? Molto semplice. Tramite pochi click potete creare un piccolo NAS, ovvero un hard disk a cui accedere online in qualsiasi momento ovunque nel mondo. Per farlo vi basterà accedere all'indirizzo myfritz.net. Non manca poi la possibilità di collegare il telefono di casa, di impostare la segreteria telefonica o di creare una rete dedicata esclusivamente agli ospiti. Fritzbox 7590 è pronto per il futuro. Questo modem router è infatti compatibile con il mondo della domotica. Ciò significa che adesso potete collegare la nuova lavatrice smart, il termostato intelligente o le prese di corrente di nuova generazione che monitorano il consumo energetico. Direi che anche per oggi è tutto. Voi ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao! 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 Ciao!